Nesso, che succede? Avevamo un accordo? Questo non è vero. Mio padre ti ha concesso del tempo per prendere l'assassino di Sara e tu hai fallito. Non è facile, sto facendo del mio meglio. Hai pensato più a proteggere la città e la pazienza di mio padre si è esaurita. In passato, se qualcuno del villaggio veniva ucciso, la Lega ammazzava 50 persone al giorno finché non si prendeva il vero colpevole. Trova e consegnaci l'assassino di Taher al Safer. Hai 48 ore? Poi i cittadini di Starling City scopriranno di cosa è capace la Lega. Avete intenzione di trucidare persone innocenti? Ripulire questa città sarà compito di Sarab. Maseo. Maseo non esiste più ormai. Come hai sentito? Mi chiamo Sarab. Scopri chi ha ucciso Sara o scorrerà molto sangue nelle vostre strade. Non è quello che Sara avrebbe voluto. Sara è morta, Oliver. È ora che cominci a ricordartelo.